Cinque presunti scafisti sono stati fermati dopo lo sbarco di ieri a Crotone di 314 migranti di varie nazionalità soccorsi nel canale di Sicilia al termine delle indagini condotte da Polizia, Guardia di Finanze e dalla Capitaneria di Porto. Si tratta di cinque egiziani, tutti già identificati in altre circostanze. Sono accusati di violazione delle norme del Decreto Legislativo 286 del 98, di avere effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato e compiuto atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso, oltre ad avere messo in pericolo la vita o l'incolumità dei migranti trasportati in condizioni inumane. Uno dei fermati, già sottoposto a fermo nel 2013 per fatti analoghi, è indagato anche per essere tornato in Italia dopo essere stato espulso il 22 novembre del 2013 dal prefetto di Siracusa.